buongiorno mondo beh oggi non lo so se proprio un buongiorno in ogni caso salve amiche e amici rieccoci qui diciamo che questa foto un po riassume lo spirito di quello che è successo questa notte tra l'altro sono stato sono rimasto in piedi proprio per seguire gli esiti delle elezioni presidenziali americane che vi devo dire sono rimasto piuttosto deluso anche perché ingenuamente mi aspettavo che la signora in bianco qui ricevesse un po di voti circa il 20 il 30 per cento insomma lo davo abbastanza per sconfitto e invece e invece ha vinto il buon vecchio modo di fare politica quello populista forse non lo so forse è stato dovuto anche alle sue preghiere di questo signore qui che prega in questo modo strano una mano anche ai maroni non guasta mai dovrebbe pregare per i caduti del suo popolo che sono hanno superato quota 700 mila in ogni caso ecco questa notte molti si auguravano che gli stati uniti superassero il test del iq il famoso test sul quaziente intellettivo che poi in realtà apro parentesi e la chiudo il test del cui non è non determina necessariamente l'intelligenza è un po una bufala questa nel senso che si basa su dei criteri di cultura occidentale per cui non è che un aborigeno che non ha studiato niente della storia dell'occidente della matematica di tutto tutta la nostra cultura sia meno intelligente di una persona che esce dal college negli stati uniti in ogni caso mi dispiace ma il test del cui non è stato superato questa notte è forse anche colpa della eris che si è presentata con dei discorsi poco popolari che magari potevano un po attecchire sui giovani e sulle donne lo zoccolo duro degli americani evidentemente hanno ritenuto più importante ragionare in termini di confini soldi soldini da risparmiare e quant'altro e quindi sì purtroppo il personaggio in questione dovremmo tenercelo ancora per un po salvo appunto decorso naturale visto che comunque ha 78 anni suonati la mia speranza che vi devo dire era di non sentire più parlare di lui e insomma perché un po il mondo ci ha stufato di questo modo di parlare così cafone e laido però alla fine che vi devo dire la democrazia è anche questo sono rimasto diciamo piuttosto dispiaciuto anche da jake bro che è un grandissimo youtuber che seguo lui è un militare ex militare dell'air force degli stati uniti che ha un bel canale che fa analisi militare questa notte seguivo la sua diretta e è una persona estremamente sensibile sul tema dell'ucraina nel momento in cui ha capito l'antifona ha interrotto la diretta probabilmente per un nodo allo stomaco e poi ho pubblicato questo post dove questa notte durante l'ennesimo attacco russo ai danni di kiev mentre erano nei rifugi hanno fatto gli ucraini hanno fatto cantare questa bambina che canta la canzone let it go un po' di città si fa tutta la canzone così il testo del post di jake diciamo abbastanza triste dice ora ci sarà molta incertezza nel mondo questa potrebbe essere la nostra ora più buia la russia ha appena guadagnato l'aleato più potente al mondo trump revocherà tutte le sanzioni imposte alla russia nel momento in cui entrerà in carica il 20 gennaio porrà fine a tutti gli aiuti militari e alla cooperazione all'ucraina degli stati uniti entro il 20 gennaio ma io sono ancora qui e faccio ancora parte della resistenza dice jake quindi insomma lì dice alla fine non so ancora come ma la russia verrà sconfitta condivido la tristezza di jake non tanto per una questione alla fine onestamente detto fra noi non so fino a quanto il tizio qui revocherà le sanzioni non so se allora ecco per dirle parole povere sicuramente se avesse vinto la eris oggi saremmo a parlare di quanto gli stati uniti avrebbero sostenuto l'ucraina da oggi i ragionamenti che dovremmo fare saranno sul se gli stati uniti sosterranno l'ucraina e da una parte penso che andrà avanti così se almeno il tizio manterrà i discorsi e le promesse fatte in campagna elettorale il che non è per niente scontato dal momento in che insomma i politici che fanno le loro propagande populiste poi non è che attengono si mantengono su quella linea no diciamo che i discorsi fatti in campagna elettorale servono per accapararsi voti poi chi lo sa non so fino a quanto trump sarà contrario a fornire aiuti all'ucraina dal momento in cui le grosse lobby di produzione di armi americane insomma fanno affari con la guerra in corso semmai al massimo dovremmo ragionare in termini di prolungare il più possibile questa guerra il che è un altro ragionamento da fare nel senso che più dura alla guerra più in america si fanno affari quindi magari ecco ragionare in termini di dare aiuti con il contagocce potrebbe prolungarla ancora di più d'altro canto lui ricordo benissimo che disse che se se avesse vinto le elezioni avrebbe posto fino alla guerra nel giro di 24 ore quindi a me andrebbe bene anche questo voglio dire voglio proprio vedere diciamo che però vediamo ecco in questi giorni cosa dirà e poi se una volta insediato se riuscirà con una telefonata come dice lui come ha detto testualmente lui cito testuali e parole metterà d'accordo Putin e Zelensky li metterà al tavolo insieme per far finire la guerra quindi me lo auguro chissà appunto a questo punto non posso che condividere la frase di Jake Bro quando parla di incertezza siamo in un momento buio però ecco la deriva populista che sta dilagando che prende tanto sulle persone anziane che vogliono risposte in termini di spiccioli e che prendono i discorsi di pancia quando si parla di immigrazione quando si parla di risparmi quando si parla di tasse insomma è sempre il solito vecchio adagio della politica non cambia niente quindi andiamo avanti e parliamo un'altra citazione di un altro utente che dice scommetto che i canadei i canadesi adesso si sentono vabbè non commento quindi mentre stanotte veniva proclamato in anticipo il vincitore delle elezioni il corrispondente di di mosca per la televisione equivalente del canale 1 di rai 1 a mosca c'era il corrispondente negli stati uniti che appunto accadeva qualcosa di veramente di strano qui abbiamo il corrispondente che intervista il primo sostenitore di trump a caso è tipo becca primo americano che capita ok qual è il tuo messaggio per la popolazione per il popolo russo complimentoni quindi sta cantando una canzoncina per bambini che dice che ci sia sempre il sole e me lo auguro voglio dire no speriamo nella pace ora andiamo avanti come sempre prima di iniziare e parlare di cose più importanti vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto trovate i pulsantini per farlo iscrivetevi mi raccomando lasciate un mi piace sono due gesti che aiutano tantissimo la mia iniziativa allora non posso mostrarvi le immagini ma devo riportarvi questa notizia da parte di chris wiki in cui c'è un problema per i soldati russi che sono stati fatti prigionieri in ucraina e che vengono scambiati con i prigionieri ucraini lo sapete questo è già successo altre volte quello che viene riportato in questo post che poi anche con delle immagini che non vi posso mostrare perché ci sono dei prigionieri e che a quanto pare i soldati russi che rientrano in patria non riescono a integrarsi in società perché vengono accusati di tradimento non gli vengono riconosciuti i bonus economici tanto per cambiare come se già non bastasse il fatto che alle famiglie spesso non vengono riconosciuti gli indennizi neanche in caso di ripartita perché se non c'è un corpo non c'è l'indennizzo ovviamente ora nel caso appunto di questi prigionieri che rientrano in patria non vengono accolti benevolmente questo è quello che volevo dire nel frattempo continuano gli altri report per quanto riguarda i soldati nordcoreani in ucraina ne avevo già parlato ieri l'altro ieri nei giorni scorsi poi arrivano anche video in cui appunto le testimonianze parlano di difficile integrazione con le truppe russe sono già avvenuti casi di fuoco amico e gli ucraini fra l'altro hanno già filmato alcuni caduti da parte dell'anno corea del nord ci sono problemi di linguaggio eccetera eccetera questo è un video in cui si vedono appunto soldati nordcoreani vestiti con uniformi russe di fatto sembra assurdo da dire ma in questo momento l'ucraina sta combattendo contro due nazioni che hanno potenza nucleare quindi no l'ucraina è la prima nazione che combatte contro due potenze nucleari di fatto allora parliamo poi della situazione al fronte un piccolo aggiornamento non ci sono grossi cambiamenti soprattutto nella regione di kursk vediamo tutto molto stabile rispetto a ieri ci sono stati dei re daerei poco altro sinceramente non ci sono rapporti almeno per quello che viene riportato generalmente sia da deep state che da maya kosk invece ci sono piccoli progressi è tutto a est in una nuova avanzata da parte russa in questo settore qui a est del fronte mentre la situazione a toresk è sempre in favore ucraina con appunto un'avanzata ucraina in questo villaggio e per lo più azioni unilaterali da parte loro con l'utilizzo di droni fra l'altro qui questo è un video dell'altro ieri in cui presso questo villaggio in questa direttiva che di cui vi avevo parlato anche nei giorni scorsi nella loro offensiva gli ucraini sono riusciti anche a fare dei prigionieri russi in questa direttiva quindi questa iconcina fa riferimento a un video in cui dei soldati russi vengono catturati in questo caseggiato questi sono i piccoli vantaggi e piccoli progressi da parte ucraina mentre la situazione a sud di pokrovsk nella direttiva nella direttiva di kurakov invece è piuttosto ormai la conoscete i russi prendono posizioni e avanzano anche qui c'è stato un piccolo progresso l'altro ieri e qui qui sono tutti piccoli progressi da parte russa a un costo sempre elevato di mezzi e uomini si parla di qualcosa come 40.000 solo nel mese di ottobre oggi tra l'altro stamattina c'è stato un attacco a qualcosa come 1300 chilometri dal confine ucraino questa iconcina che vedete qui è esattamente presso il porto di kalikova o kaspisk come si chiama un attimo perché c'ho ecco dagestan nella regione del dagestan e il mar caspio vi faccio vedere un pezzo di questo video ma lo passo in descrizione perché non posso farvelo vedere per intero perché c'è una grossa vampata a un certo punto sembra un'immagine presa dalla seconda guerra mondiale tipo guerra del pacifico non so se avete l'idea no? con quello che facevano i piloti giapponesi di fatto quello che state per vedere è un piccolo ultraleggero un drone non pilotato ucraino che si è fatto appunto qualcosa come 1300 chilometri per poi attaccare il porto nel caspio quello che sentite è la reazione della contraerea e questo è il drone un attimo prima di colpire allora è interessante questo perché appunto il drone che abbiamo visto nel video è arrivato con una traiettoria da sud così in questa direzione da sud ovest questo significa che si è fatto un bel po' di strada attraversando tutta quest'area in particolare costeggiando la catena montuosa del caucaso quindi tanta tanta strada per un ultraleggero voglio dire e di cosa stiamo parlando? allora intanto vediamo se riesco a mostrarvi un'immagine migliore qui si vede meglio vedete questa è la sagoma delle piccole aeroplanino fate caso ok questo qui è un A22 Foxbat è un ultraleggero costruito in Ucraina un biposto fra l'altro io ho preso il brevetto proprio su un tubi e tela simili a questo all'epoca è un aereo ULM insomma nell'ordine entro i 500 kg di peso come massa che può trasportare due persone per poter fare un volo di questo tipo considerando che un ultraleggero in genere ha un'autonomia di un'oretta un'oretta e mezzo per quello che posso dirvi io come esperienza per poter fargli fare 1200 km letteralmente lo hanno riempito di carburante è una piccola carica esplosiva se consideriamo che può portare su qualcosa come 200 kg 250 kg di carico la maggior parte di questi 250 kg saranno stati di carburante per un volo che ha la velocità strabiliante di circa 100 km orari 110 km orari vi lascio immaginare quanto tempo è stato in volo e che tipo di volo ha fatto per poter arrivare fino a lì insomma tanta roba davvero è un vero primato e non è la prima volta che fanno così tanta strada questi droni infatti un mesetto fa fece un attacco se non sbaglio fece un attacco ancora di questo tipo questo drone fece un attacco a qualcosa come 1200 km in pieno territorio russo su un centro di produzione quindi questo oggetto è riuscito a colpire fra l'altro ha colpito una nave militare nel porto sembra insomma che l'esplosione si sia verificata proprio qui in quest'area andando a colpire una fregata una Dagestan class fregata in realtà è una piccola nave non è grandissima come unità siamo nell'ordine delle 500 tonnellate ma è pesantemente armata con missili antinave per esempio e quindi sicuramente è stato un bel colpo ecco questo era l'attacco precedente di cui io parlavo in Tatarstan si era 1265 km l'attacco precedente con questo tipo di drone quindi si confermano degli oggetti ad ampia autonomia e fra l'altro sono anche piuttosto difficili da rilevare con il radar questo ve lo dico anche perché parlavo con i responsabili della base qui nel Salento di Galatina che mi dicevano che i campi volo di tutto il turismo della domenica con questo tipo di aeroplano durante i voli infrasettimanali rappresentano un problema quindi chi si alza in volo questo lo dico anche per esperienza personale avendo fatto io stesso i voli sul Salento era d'obbligo comunicare alla base militare le nostre attività perché i radar militari fanno un po' fatica a rilevare tubi e tela essendo appunto oggetti piccoli che riflettono poco cioè poco metallo fondamentalmente quindi di conseguenza anche per i russi è difficile individuare questi oggetti poi andiamo avanti per quanto riguarda un'altra notizia da parte di Sirski vi traduco il suo rapporto stiamo parlando della regione di Kursk ha rilasciato una dichiarazione sull'operazione nella regione speciale di Kursk ha riferito che per quasi tre mesi dall'operazione di Kursk le perdite dei russi in questa direzione ammontano a circa 20.842 persone di cui 7.905 sono state eliminate 12.000 sono state ferite 717 sono quelli catturati da parte russa nello stesso periodo sono state distrutte 1100 unità di armi ed equipaggiamenti militare russo e di queste 54 sono carri armati 276 veicoli corazzati da combattimento e poi 107 fra cannoni di artiglieria e mortai 659 unità di equipaggiamento automobilistico poi il generale ha sottolineato che l'Ucraina è stata costretta a portare a termine l'operazione nella regione speciale di Kursk perché la Russia aveva pianificato di attaccare la regione di Sumi quindi hanno rinforzato le retrovie quindi ora la Russia secondo lui sta cercando di far ritirare le truppe ucraine da questo territorio il nemico ha concentrato in questa regione circa 45.000 uomini e sta cercando di aumentarne il numero le truppe russe non sono sufficienti in questa direzione quindi stanno cercando di attrarre militari dalla Corea del Nord questa dichiarazione appunto del comandante in capo delle forze armate ucraine a seguito dell'elezione di Trump abbiamo anche avuto le nostre risposte c'è stato Zelensky che si è congratulato con lo straordinario risultato e per forza di cose dovrà comunque interloquire con Trump adesso quindi ripeto, sottolineo siamo arrivati a un punto in cui si parlerà di sé più che di quanto gli Stati Uniti daranno sostegno all'Ucraina mentre da parte di Sikorsky prima di lui ovviamente anche da parte italiana sono arrivate le congratulazioni al Mr. T della situazione sottolineando che l'Italia è amica degli Stati Uniti non mi è piaciuta una certa dichiarazione di oggi che ho sentito telegiornale secondo cui Mr. T avrebbe in grande simpatia l'Italia grazie tutti hanno in simpatia l'Italia alla fine, quasi tutti comunque Sikorsky ha ribadito un fatto molto importante questo mi ricollego anche alla nota introduttiva del mio video di oggi al fatto che questa incertezza che arriva dai repubblicani americani nella voce di Trump ovviamente anche se forse qualcuno in Italia da quello che ho sentito sarà contento per questa deriva populista in realtà questa deriva populista americana avrà delle conseguenze in Europa che probabilmente si troverà sola contro la minaccia russa in particolare i confini orientali d'Europa soprattutto nella Polonia per cui Sikorsky ha sottolineato la responsabilità che spetta all'Europa in questo momento che per forza di cose dato il clima generato dalla Russia dovrà correre ai ripari in termini di politiche di difesa quindi aumentando la spesa militare e le preoccupazioni sull'immigrazione anche questo dovrà essere gestito in sostanza questa vittoria di Trump porta incertezza dice Sikorsky e avrà come effetto sull'Europa un aumentare della spesa pubblica per gli armamenti questa è la sua conclusione che sento un po' di condividere nel senso è chiaro questo lo vedremo nel prossimo mese quando il nuovo presidente americano si insedierà se arriveranno queste queste notizie di eventuali minori aiuti e l'Ucraina è chiaro che la situazione diventerà difficile per l'Europa comunque nonostante questo avevo accennato anche nei giorni scorsi circa 170 mezzi corazzati sono partiti per l'Ucraina dalla dalla Svezia quindi la Svezia sta facendo la sua parte poi vi avevo promesso di ritornare sull'argomento Bradley questo mezzo di assoluto successo in Ucraina possiamo dirlo e infatti in questa foto vediamo il cento centesimo la centesima brigata meccanizzata Ucraina al momento è la terza il terzo battaglione che riceve il Bradley M2 americano fra l'altro vediamo che non è un semplice Bradley la versione aggiornata che ha migliori ottiche continua ad avere sia il cannoncino da 25 mm che i missili TOV in questa rastrelliera più la cosa più importante di tutte visto che è un mezzo molto leggero vediamo che è stato rinforzato con una corazza reattiva insomma è buona notizia per loro che ne fanno sicuramente un ottimo uso continuano i preparativi per l'air show in Cina del cui vi porterò immagini nei giorni a venire ho già parlato ieri degli aerei stealth cinesi e russi che sono presenti che dovranno fare sicuramente delle display acrobatiche comunque oggi scusate scusate troppo alto circola questo video in cui appunto non è solo un air show per gli aeroplani ma anche per le nuove tecnologie cinesi quindi qui vediamo tutta una serie di droni che si potranno vedere in futuro questo per esempio per la guerra elettronica questo è un mini mezzo d'assalto anche questo questo porta addirittura una postazione antiaerea e questi sono dei mezzi che abbiamo già visto in russia in ucraina anche questo lo abbiamo visto questo per esempio è progettato per l'opera di sminamento per concludere torno sull'argomento della ragazza iraniana che è diventata un'icona ed è sono contento di questa cosa nonostante la sua sorte ormai visto che è finita in coma l'ho già detto ieri perché appunto il coma gli è stato indotto dalla polizia morale iraniana nel mondo sta girando molto questa questa immagine di lei è diventata il simbolo di una protesta che e fra l'altro in iran le persone anziane sono scese in piazza per protestare sulla sua sorte insomma non coinvolge solo le donne ma anche gli uomini questa protesta comunque la protesta continua e un'altra ragazza fra l'altro questa si è tolta la vita per protestare contro una ragazza di 16 anni quindi ecco mi collego anche che ha questo discorso per secondo me per l'occasione mancata negli Stati Uniti di una sorta di rinnovamento che è la seconda volta che mister T la strappa agli americani è sicuramente il suo grande merito di aver trovato potenti alleati e aver vinto la campagna elettorale ma come dire già era successo con la Clinton nella sua elezione precedente e peccato chissà magari oggi ci saremo svegliati con un mondo diverso ma è solo il mio pensiero per quello che vale voglio dire alla fine noi siamo italiani per noi è tutto relativo non cambia molto che ci sia Trump o la Harris alla fine per noi in Italia non cambia niente per la nostra percezione così come in Europa abbiamo un modo anche diverso di vedere la questione delle presidenziali americane quindi è solo un pensiero così astratto e questo è quanto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate come sempre un abbraccio alla prossima